La proposta Berto è l'unica che mi ha convinto dal punto di vista professionale perché io sono architetto di utilizzare l'outdoor anche per l'indoor, nel senso che noi dobbiamo ancora decidere per l'indoor e pensavamo di trasferire l'outdoor dell'indoor e vedere un attimino come funzionava dal punto di vista di design di tessuti, abitamenti o altro. Diciamo che vogliamo essere un po' trasversali, cercare di utilizzare i prodotti a 360 gradi quindi stiamo puntando su questo io e mia moglie nel trovare la soluzione più adatta che possa un po' avere un utilizzo non solo stagionale ma anche il resto dei mesi dell'anno quindi fare un utilizzo come dicevo prima a 360 gradi del prodotto viverlo per le caratteristiche che ha di tessuti che sembrano quasi da interno pur essendo studiati appositamente per l'esterno questo è quello che mi ha più convinto dell'azienda. Dopodiché dal punto di vista del professionale il design dei prodotti è sicuramente azzeccato e ha proposto qualcosa di nuovo sul mercato che magari ha subito negli ultimi anni un po' di stallo di carenza di idee chiamiamole così. Grazie a tutti!